Il concorso è sempre stato un occhio sul mondo più vivace riguardo a opere prime e seconde e quindi ci attendiamo da questi film che vengono dai luoghi diversi come l'India, l'Italia e tanti altri un panorama di quello che è oggi il cinema internazionale nelle sue espressioni migliori e nelle sue speranze migliori. Poi direi che il nuovo si coniuga nel cinema italiano con l'animazione perché l'animazione è stato ed è con il documentario il terreno privilegiato su cui oggi si fa sperimentazione in Italia. L'Italia aveva avuto un grande momento negli anni 90, un momento in cui ha perso il treno rispetto ad altre cinematografie come la Francia e ovviamente gli Stati Uniti che hanno creato una macchina industriale sull'animazione e oggi però sta riprendendo terreno sia dal punto di vista delle opere più note al grande pubblico come le Wings ma anche soprattutto ed è quello che specificamente interessa il Festival di Pesaro in quello che riguarda la sperimentazione del nuovo cinema. Quindi tutti quegli autori che sono emersi e hanno nomi anche internazionali come Toccafondo e Simone Massi che tra l'altro sono anche noti al di fuori della diciamo così della cerchia dell'animazione per i loro spot a festival o a case di distribuzione. Pesaro ha avuto una storia in cui non ha mai dimenticato il cinema americano e Hollywood. Dagli anni 60 dove si presentavano gli indipendenti, gli underground sino a grandi rassegne su Hollywood ad arrivare oggi a capire come il cinema indipendente di sperimentazione lavora e quindi abbiamo grazie all'aiuto del nostro consulente John Gartenberg abbiamo cercato di fare il punto della situazione su quelle che sono le tendenze più innovative in tutti i campi del cinema quindi dall'animazione al cinema di fiction al documentario o alle forme ibride che stanno assumendo un'importanza sempre maggiore come quelle della docu fiction. Quindi si passa da film astratti a film narrativi con grande nonchalance e questo è il grande merito della rassegna quello di cercare di fare un po' il punto complessivo a tutto campo a 360 gradi su questo aspetto centrale del cinema americano e in particolare di quello new yorkese che è sempre stato il cinema da scorsese in poi il cinema più legato alla sperimentazione e all'indipendenza. Beh diciamo così è uno sguardo retrospettivo rispetto agli anni sessanta che sono stati il periodo più più importante di trasformazione del cinema il cinema passato dal cinema classico al cinema moderno oggi ormai siamo dopo post modern siamo alla post digitalizzazione quindi sostanzialmente siamo anni luce lontano ma sono dei classici che sono sono stati scoperti in italia dal festival in quel periodo e che oggi riproponiamo in nelle edizioni migliori possibili che siamo riusciti a trovare tra l'altro abbiamo previsto al posto del workshop due master class come si dice in termine giornalistico delle conversazioni con john kane mecca premio oscar italiano americano del cinema d'animazione che farà una lecture su su gli effetti speciali walt disney e ottar joseliani il grande giorgia il grande regista giorgiano francese che verrà a presentare proprio il suo primo film che passò per la prima volta a pesaro il merlo canterino e che quindi come dire segnalerà come dire la fine diciamo così di un'epoca e la transizione un'altra e questo si collega anche alla rassegna russa che mostra diciamo così proprio il passaggio tra un modo di fare cinema che era quello dell'unione sovietica quello del cinema russo di oggi che è un laboratorio di sperimentazione sperimentazione molto interessante in cui come sempre convivono stili e opere completamente diverse ma non è un'epoca